Una due giorni per informare le persone sulle buone pratiche di protezione civile. Questo l'obiettivo di Io non rischio, campagna nazionale tenutasi anche in piazza Aldomoro a Battipaglia e dedicata alla sensibilizzazione sulle calamità naturali che interessano il nostro paese. Siamo qui per informare i nostri concittadini e non solo sulle buone pratiche da fare prima, durante e dopo un evento. In modo particolare oggi l'evento terremoto. Quindi quella che noi viene definita la buona prevenzione. Prevenzione che è fondamentale per evitare i danni in seguito ad un evento. La campagna si svolge in oltre 700 piazze d'Italia. viene svolta dai volontari della protezione civile in associazioni di volontariato o nuclei comunali. Vi è il padrocino del Dipartimento, dell'AMPAS, dell'Istituto Nazionale di Geologia ed altri attori. è una campagna in cui noi crediamo tantissimo perché appunto è sulla prevenzione e comunichiamo anche ai cittadini quali sono le aree di attesa presenti sul nostro territorio comunale e il da farsi come detto in precedenza prima, durante e dopo l'evento. In piazza Aldomoro è evento terremoto. In altre piazze d'Italia vengono affrontate anche il rischio alluvione e maremoto.